Qualcuno mi conta? Mi conto io? Conta, facciamo il cuore, dai. Due. No? Tre. Quattro. Quattro. Cinquattro. Pei. Satsang. Quattro. Quattro. Nove. 9, 10, 11, 12, 13, vai a buono. 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31, 32, 33, 34, 35, 35, 36, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42, 42, 42, 42, Eccola, adesso sei. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.